Sì, la mamma di Ciro è lo specchio dell'anima di Ciro, l'immagine di questa famiglia che è la migliore testimonianza dei valori positivi di civiltà, coraggio, altruismo, dignità. Sono la più bella immagine di Napoli e di Scampia nel mondo e sono un esempio per tutti, soprattutto per i giovani, di quella che dovrebbe essere la società civile e di come dovrebbe essere lo sport un momento di divertimento e non certamente un momento di violenza o un momento di speculazione per i poteri forti. È una cosa che non doveva succedere, noi Ciro l'abbiamo conosciuto proprio perché era un bravo ragazzo, quindi è andata via una parte del nostro territorio, una parte onesta e i ragazzi soffrono per questo perché è impossibile perdere la vita per andare a vedere una partita di pallone.